Ok, qua c'è il confine, qua. Curio. Una recensione di Velta, con un po' di impegno a poter superarla. Dovrò passare dal retro dell'edificio. Beh, se non posso entrare da davanti, mi toccherò improvvisare. Sono uscito superarla, spero almeno che da questa parte ci sia un punto da cui entrare. Sì, lei sarà qua. Si vede subito. Mie, che cosa c'è stato? Siamo incapitate nel Medio Oriente durante le guerre, i bombardamenti. Qua è crollato tutto. Ha avancato una bomba. Ah, finestra aperta. Posso usarla per entrare? Per arrampicarmi lassù mi serve qualcosa da cui darmi lo slancio. Vediamo cosa riesco a trovare. Quindi non possiamo salire qua e saltare. Qui va bene, devo riuscire a arrampicarmi. Basta. Alveare. E raccogliamo il alveare. Qui c'è qualcosa, non si può andare, no? Elastico consumato, preziosissimo. Può superare queste aree premendo la rincorsa. Può inoltre oscillare tra le sbagliate di ferro per coprire distanze maggiore. Verso il vuoto, ok. Aveva guardato, aveva guardato, aveva guardato, ah bisogna salire ancora un po'. C'è qualcosa, sì. C'è anche qua il passaggio. Attenzione. E saliamo là, cosa c'è? Quindi ci sono due vie, eh? Solo una è giusta. Di solito solo una è giusta. Vediamo un attimo cosa c'è. Ok, c'è un oggetto. Ok. Insomma, se i ragazzini volevano entrare, ci entrano lo stesso. Chiede il permesso. C'è la frezza. Che in realtà l'avevano lasciato. Possiamo buttarci giù qua, ci sono delle scale ma non si può andare, ok. C'erano i flare, no? C'erano i cosmi, come si chiamavano. Segno di brucia duro sul pavimento. Ci sembra di esserci della polvere rossa sparsa sulla superficie. Questa macchia scura deve essere sangue, quindi è qui che si trova il corpo di Mikoshiba, eh? La c'è completata. Adesso sappiamo tutto. Quella freccia indica sicuramente la posizione del corpo. Suppongo che il killer volesse che tutto fosse perfetto. L'edificio combacia con la foto, quindi Mikoshiba era ancora vivo quando è stato portato qui. Il che significa che non è stato... Che non è solo il posto in cui è stato gettato il corpo. E' quello dove si è consumato l'omicidio. Arriva qualcuno. Che è l'ispettore, no? Merda, proprio adesso deve farsi vedere la polizia. Ma che viene a fare? Senza qualcosa. Comissario. Comissario. E' comissario. E' un tipo Il tipo? C'è un tipo di tipo? Grazie a tutti. È il Vatanabe di Kanagawa. Un tipo di tipo? Questa è la nostra scuola. Grazie. E allora? Cosa hai pensato? C'è un tipo di lavoro. Sì, credo che ci sono stati finito. Cosa cosa? Cosa cosa? Cosa c'è? 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 Cosa c'è Quindi questi poliziotte ne ha incontrato Sori per discuterti e Ara. Sori per decidere qui. C'è una cosa che tu... C'è una cosa che tu pensi a parlare di primavera? C'è una cosa? C'è una cosa che tu pensi a parlare con Ihara. Ihara è una cosa che conosceva due mesi che aveva un po' di riuscire. E' un po' di riuscire a parlare di qui. Non è più che il mio amico. In poche parole il dipartamento di Kanagawa è la forza e polizia locale, mentre il quartiere generale è la polizia di Tokyo. Il che significa che i crimini ai Jincho cadono sotto la giurisdizione di Kanagawa, ossia del qui presente Watanabe. T domina di Kanagawa. Nembano di farra, ma voleva rilasciare. Che i dati sono i miei, possono devocare le confine di domande. Io potrei rendere la propria deluariel di Kanagawa. Adesso, io ora sono la propria della propria che sono più consapevolezza a loro venire. Come chiuderebbe, ma l'amore della campagna è il modo simile. E ogni giorno, i consiglieri, ma i miei, i miei, i due giorni sono invati. Segui che non mi gunna, non mi facilitan. Oh, no, è proprio quello. C'è quello che ha detto? Quindi il nostro paese ha detto che l'Eharà si può cercare le informazioni di Tokyo. Alla prossima sono le informazioni delle informazioni di Miko柴. E' quello che ha detto. E' quello che ha detto, non? Per quanto riguarda l'Eharà? Non c'è nessuno che ha detto che l'Eharà si può cercare. Non c'è nessuno che ha detto che l'Eharà si può cercare. E' quello che ha detto. E' quello che ha detto. Cosa cosa? Il riconoscimento di un senso come e i collegamenti di Cannes Corso? Ma sei che fanno ancora fare quella cosa? Ah, c'è un po' di conti di scegliere il modo che la città di risposta. Non ci sono ancora una città di risposta. Trazione. È un po' di fara di un lavoro. È un po' di fara di farò anche una specie di risposta. È un po' di fara di risposta. Un altro che vuole collaborare Questa storia finirà per essere un enorme spreco di tempo, ma anch'io ho bisogno dell'informazione dalla polizia. Credo che collaborare con loro e fai qualche dritta in più sul caso sia la cosa migliore da fare. Beh, l'unica è questa. Ah, l'unica è questa. L'unica è qui. L'unica è stata fatta. C'è l'unica? Cosa cosa? C'è questo? Non è difficile parlare con il telefono, ma non è difficile parlare. Non mi sembrava che sia possibile. Entendete. Mi sentite. Quindi, è questo? A te e il ragazzo della professoressa, aveva un po' di questa foto, e aveva un uomo. Io non ho potuto vedere quella uomo. Non mi piaceva, ma non mi piaceva. Sawa ha detto che mi ha detto che sia molto affatto. Non mi piaceva più parlare. Sawa ha detto che mi occupa di tutta la professione di Miko柴, che ha fatto un uomo di professione di Miko柴. Mi ha detto che mi ha dato un uomo che è stato un uomo di Miko柴. Ci sono un uomo di tanti. fucsus zuiveni iけるんですね nonica sono根拠 sopra mi cosmo no si dai写真 o mi sedere non cattaro l'osegenda da sei ma no ma già la città ne un corso gi e io la torna cosa lui lui da un pozzamme tante sa mi toってきても mave sanがそういうなら qui saranno passati due mesi dalla sua morte il corpo in avanzato stato di composizione cosa dovremmo ricavare da questa cosa 7 ottobre e che avanti a casa come si è rilassato e che non ci sono i miei ma stagione ma stagione ma stagione C'è una possibilità di rafforzare il rafforzamento. In questo caso, in questo caso, dovrebbe essere utilizzato il carico. In questo caso, ci sono due due ragazze. Se io, ci sono 3 persone. Ok. Quindi, in questo caso, Sì. Quindi il giorno della sua sparizione Mikoshiba è stato rapito, portato qui e uccisono prima delle 7.30. E che mi ricorda questo? Questa è una cosa che volevo dire sin dall'inizio, mi ricorda anche se poi non c'entra niente, ma mi sembra un po', adesso lo vedremo, tipo quello del silenzio degli innocenti, il cannibale psicopatico che era Anthony Hopkins. Se te lo ricordi, la parte che faceva, quando tipo era in carcere così, era tipo molto serio, molto, anche molto intelligente, acculturato, eccetera, no? E questo, a parte che è un poliziotto, agli occhiali, eccetera, dà un po' quell'area lì, no? Certamente è molto serio e sembra molto... ha quell'area qua di uno che ha fatto dei calcoli, non so come dire, un calcolatore, no? Però vedremo, vedremo se si aprirà in qualche modo e riusciremo a conoscerlo di più in qualche modo, perché... Per ora lui è in carcere, quindi... Che diavolo del poliziotto? Ci siamo appena incontrati e sto già per diventare la sua talpa. Da parte, suppongo che farò lo stesso con lui. Poi adesso è passato alla modalità visual 9. Ecco la mia occasione per far luce sui fatti, devo chiedere di quale prova ha raccolto la polizia dalla scena. Che danno tutto. In questo caso, i fatti hanno fatto un po' di Mico柴 per il prezionamento del Mico柴. Non è così, non è possibile. In questo momento, mi piace di sentire a Mico柴. Ah, io sono anche i miei. Inoltre, hanno un po' di perdita. Mico柴 per la morte del Mico柴 è inattora del 10.7 al 11.30. Che è il punto fondamentale Terribile crimine Penso che sia una battuta Sì, ironico Che altro? Io chiudico Però l'avevo detto prima È strano che abbia un'emoragia Cagliandogli la gola Cagliandogli la gola Cagliandogli la gola Ah sì, perché era coperto Era coperto Cagliandogli la gola Cosa cosa era? Il fatto un po' di perdita, e il c'è il cuore. Il fatto un po' di piedi, si sono attraverso il cuore con il cordone. La scena era una pelle che si era riuscita. Ma prima cosa, c'è una scena molto forte. E' un po' di più pesante. Cosa? Il fatto tutto il tuo cuore. Sembra anche una cosa simbolica, no? Tipo, tieni giù le mani, non dovevi alzare le mani, una cosa così, e allora le hanno frantumate. Ma cosa è successo? Ha un bombardato. Il pugnale è quello di Rambo. Lungo 30 centimetri. Sì, appunto, non so se è mai stato un bombardamento, questo non è un crollo normale, cioè, ma neanche un'esplosione, tipo, non so, classiche caldaie, no? Quelle cose lì, boh. E poi c'è proprio questo bomber, no? Anche se poi, tra l'altro, è strano perché il soffitto, a quanto pare, c'è. Su, vediamo se riusciamo a guardare, ma... Cioè, il pavimento è crollato. Come ha fatto a crollare in quella maniera? Cioè, il tetto c'è... Cioè, l'altro, è un po' di più. Un po' di più, per il tempo, è stato un po' di più, ma... ...ma mia, sono stato un po' di più, ma... ...se sono stato un po' di più, ma... ...se sono stato un po' di più, ma... Sì No, è X Sono troppo abituato a premere triangolo Con questo fa Mio mio Ma stiamo girando intorno? Ah no Alzare gli oggetti? Ah ok, però devo premere un comando Ah va Ma mancato Però ero vicino Ma non me l'ha dato lo stesso Dovevo proprio prenderlo in pieno Corre, corre Ecco, vediamo se riusciamo a prendere questo Ok, no Eh, c'ha un sacco di vita Per cui conto la vita adesso Ah, l'ha mancato Continuiamo a fare il giro Abbiamo fatto questa cosa qua circolare adesso No, ancora È uguale Identica prima tra Finché non Finché lui non Finisce l'energia Ormai l'ha finita Di sicuro c'è dietro la mafia Cioè la mafia o quella cosa lì Ti riguarda E' la mafia cinese Ne fa tempo si è fatta notte Comunque volevo far notare una cosa Allora abbiamo Adesso abbiamo Vabbè a parte che era un marchio di fabbrica anche del primo Cioè o è mattino o è giorno O è tramonto Con sempre coloro Quello lì Quella specie di rosa E poi appunto La pavimentazione bagnata Anche se non piove Cioè 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 Scuole private Quindi non il liceo serio Cavoli Sul serio Non sono collegati in nessun modo con il crimine Può essere E' sbarbatello qua con i baffetti appena Quei due l'arca si spinnano Beh è stato interessante Il mosaico il mosaico inizia a ricomporsi Il mosaico inizia a ricomporsi Non so Cioè il gusto proibito questo è qualcosa il gusto proibito anche qua aspetta 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 che noi abbiamo guardato chatter guarda caso adesso sono spuntati questi tre posti ma prima non li ho guardati no lo so cioè io ho capito che appunto tu guardavi vedevi l'illocation dei cosi dovevi andare lì e guardare dove c'era un'altra concentrazione per esempio il tizio là come si chiama l'uomo aracnide la maggiore concentrazione era lì tutti che parlavano lì e loro non li siamo andati sul posto perché era probabile che le persone fossero lì ok in questo caso invece si sono comparse queste tre questi tre posti vabbè comunque se torniamo quindi forse varia a seconda della della questa invece cos'è manichino ok anche qua sale al gioco tradizionale vediamo cosa dicono spero spero che c'è una roba di generale ai Jincho si ci vuole pure un codice segreto per poterci entrare aspetta aspetta cacchio dimmi qual è voglio andarci anch'io lo saprei e poi potrebbe esserci qualcuno che origlia non si sa mai allora ti darò qualche indizio primi due a sinistra due su uno a destra e poi tre volte giù capito no non ci ho capito niente lì se non compaiono l'ultima cifra è zero dai che voglio ascoltare non è possibile non è possibile cavolo abobbina deformata bel momento pare che forse hanno detto tutto poi non lo so sì ma adesso che abbiamo sentito questa cosa addirittura 120 veloce come la luce non so ecco questo qua quello del gatti in realtà il punto è questo però per esempio proviamo ad andare di vicino non c'è guarda in realtà qua parlano parlano a quello e parlano a questo portare suoni ma oh non è ancora chiara sta faccena non so se tu ti sei chiaritato di più non so se tu ti sei chiaritato di più ti sei chiaritato di più ti sei chiaritato di più ti sei chiaritato di più